Salve, come posso aiutarti? Beh, per esempio suicidandoti e risparmiandomi la fatica. Oh, dici sul serio? Non vuoi sporcarti le mani, femminuccia? Ah ah ah, credimi, non ti conviene avere a che fare con me. Coraggio, combatti col tuo metro e venti, o devo contare anche i tuoi capelli. Parole forti per una specie di lumaca. Parole forti per una specie di puttana. Oh, devo ammetterlo, sei uno dei migliori sfidanti che abbia mai incontrato. Peccato che farai la fine di quelli che ho già massacrato. Oh brutto figlio di...